Sento il sole sul mio viso, vedo gli alberi intorno a me, l'aria che profuma di fiori selvatici, è bellissimo. In questo momento non mi sento prigioniera nello spazio. Sono passati 97 anni da quando un apocalisse nucleare ha sterminato l'umanità lasciando il pianeta bruciato dalle radiazioni. Ci sono stati dei superstiti. 12 nazioni avevano stazioni spaziali operative al momento dell'esplosione. È rimasta solo l'arca, una stazione forgiata con la fusione delle altre. Ci vorranno altri 100 anni prima che la Terra ritorni abitabile. Altre 4 generazioni bloccate nello spazio, l'uomo potrà tornare di nuovo sulla Terra. Quella Terra che ora è un sogno.